Alleluia! 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 Il Signore mi ha mandato a portare i poveri indieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. E dicevano, non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro, certamente voi mi chiederete, mi citerete questo proverbio. Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo dito che accade a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse, in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Saretta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città, lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma Edi, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Parola del Signore. Veramente è un grande mistero questo rifiuto di Gesù a Nazareth, tra i Suoi. ed è un grande mistero che segna profondamente la sua vita, ma ha anche a che fare con la nostra vita. Dunque a Nazareth Gesù, lo ricordiamo dalla domenica scorsa, aveva proclamato in modo solenne il Vangelo e la sua missione. Non so se ricordate queste parole che poi canteremo durante la comunione. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha mandato ad annunciare a tutti i poveri il lieto messaggio, a proclamare la libertà ai prigionieri, ai ciechi la vista, a proclamare un anno di grazia del Signore. Gli studiosi fanno notare che c'è un particolare importante che di solito nella sinagoga si leggevano almeno tre versetti di queste profezie. Gesù non legge tre versetti, ne legge uno e mezzo, perché dopo le parole che Lui proclama, c'è, il Signore mi ha mandato a proclamare un giorno di vendetta per il nostro Dio contro i nemici del suo popolo. Questo versetto Gesù non lo proclama. Perché? Perché il cuore del Vangelo che Gesù porta è una grande novità anche rispetto alla tradizione ebraica che aveva un'esperienza di salvezza molto limitata al popolo di Israele, molto chiusa e molto limitata al popolo di Israele. C'era il popolo di Israele che era un popolo eletto, salvato dal Signore, guidato da Lui. Poi c'erano gli altri, i pagani, che a volte, con senso di rispetto, di disprezzo, venivano chiamati cani, cani, pagani, nella casa dei quali non bisognava neanche entrare da parte di un ebreo. Invece Gesù proclama questo Vangelo di Dio che lo manda a tutti, che la salvezza è per tutti. Di fronte a questo annuncio succede quello che abbiamo sentito raccontare oggi nel Vangelo. Succede una opposizione radicale perché loro vedono Gesù come uno che non difende le loro tradizioni, il loro paese. Qui c'è una frase che ci potrà poi l'inganno. Si dice che tutti gli rendevano testimonianza dopo che Gesù ha fatto questo. Noi pensiamo che tutti gli battono le mani che sono contenti di questo figlio del loro villaggio. Ma non è così. Una testimonianza contro di lui. Si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua poca. Non solo perché era una persona umile e non se lo aspettavano tutto questo escoa, ma perché la grazia che Gesù proclama contrasta con la mentalità di privilegio che loro avevano. La grazia di Dio, il Vangelo, è un dono gratuito che fa il Signore per tutti i Suoi figli, anche per i lontani e non è frutto come molti di loro credevano delle opere buone che loro facevano dell'osservanza della legge. Questo contrasto porta a un radicale rifiuto di Gesù. In modo più chiaro San Luca non poteva esprimerlo perché tutti sono pieni di ira contro di Lui, lo scacciano della sinagoga, manco sono contenti, vorrebbero portarlo sul punto alto del villaggio e farlo precipitare giù dal burrone. Guardate che razza di odio! E Gesù sapendo questo già nella predicazione proclama questo mistero con un proverbio nessun profeta e ben accetto nella sua patria. Diciamo una volta. La parte più importante però del racconto non sta qui questo rifiuto dei nazaretani contro Gesù. La parte più importante sta nell'ultimo versetto che noi non abbiamo notato perché sembra un punto di cronaca. Dice così Ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in cammino. Diciamo una volta. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù non solo vive questo grande rifiuto che è un anticipo del rifiuto che poi si realizzerà nella sua passione morte. Il popolo di Israele che è la sua patria e i capi lo farà condannare a morte. Ma Gesù cosa fa? Non è che a causa di questo recede dalla missione che Dio gli ha fatto. Poteva dire qui nessuno mi capisce manco i miei mi sono stufato basta come volte potremmo fare noi. No. Gesù passando in mezzo a loro significa dando testimonianza a loro di quello che Dio pensa per loro si mise in cammino prosegue la sua missione prosegue la sua missione. Ecco allora che da questa celebrazione ci viene una grazia importantissima perché a ciascuno di noi soprattutto quando viviamo da cristiani ci mettiamo su una linea di fede nel vivere nella fede di Gesù capita questa esperienza del rifiuto della incomprensione della critica ingiusta capita anche a noi adesso abbiamo capiamo oggi possiamo comprendere che questo rifiuto fa parte del mistero della salvezza nella nostra vita è un pezzo della vita di Gesù che si rinnova in noi e allora da questa messa dobbiamo prendere la grazia di fare come Gesù come ha fatto Gesù di fronte al rifiuto di quelli di Nazare dei suoi paesani passando in mezzo a loro si è messo il cammino ha ripreso la sua missione quindi non venire meno alla missione che Dio ti dà per le incomprensioni il rifiuto il rifiuto e gli ostacoli che che capitano ma prendere forza dal Signore che non ti abbandona soprattutto in quei momenti e voler portare avanti la missione che il Signore ti dà mi ricordo abbiamo fatto giorni fa una celebrazione in onore di San Luigi Orione mi ricordo il suo detto di fronte alle difficoltà Ave Maria e avanti diciamo una volta Ave Maria Così sia